Onesti Group, questa sera siamo con Enrico, ciao Enrico ci presenti un pochino i prodotti qui in degustazione ad Aperiti V&Co? Sì, ciao. Noi oggi stiamo presentando per la prima volta in Italia un nuovo prodotto che è entrato nel nostro portafoglio, l'azienda si chiama Indi&Co, è un'azienda spagnola che produce due acque toniche e due linee di sodati, una aranciata e una cola. Sono molto particolari perché a livello di produzione gli oli essenziali, gli aromi dell'acqua tonica e dei sodati vengono fatti attraverso un lungo processo artigianale di infusione dei botani con l'inalcol e successiva distillazione in alambicco di rame discontinuo, quindi tradizionale, prodotti assolutamente qualitativamente alti. Andrea, più in generale ci parli magari del progetto che state portando avanti con Onesti Group? Sì, abbiamo iniziato qualche anno fa con questa selezione di prodotti in esclusiva e oggi stiamo puntando su prodotti sempre più premium, quindi molto selezionati, di fascia medio alta, per andare incontro a quelle che sono le richieste oggi di bere sempre meglio, che arrivano dal mondo dei barman, che è sempre più specializzato, e probabilmente anche dai consumatori che vogliono bere prodotti sempre più ricercati. A proposito, oggi è il compleanno di qualcuno e dovrebbe offrire da bere, giusto Enrico? Assolutamente sì. Buon compleanno. Grazie mille.